Ciao a tutti Lorenzo Vortoler, capitano di Sincrotublo, finale di 3G. Dimando con te se ti mangiare quando è la finale. Ho mangiato le patate con la salsiccia. Le vette, le femmine non puoi mangiare il modo. Vite presto, vite nuovo. Ci siamo, siamo pronti, ce la giochiamo ovviamente con gli amici del Morgé. Abbiamo già giocato inizio campionato, è andata abbastanza bene, abbiamo vinto, ogni partita da giocare. Dai, buona fortuna. Grazie, un saluto a tutta Radio Bicca, gentilissimi. Le ser, sono il capitano Pigeons di Morgé. Capitano sorpresa. Capitano surprise. Dimando con te, cosa hai mangiato prima della finale? Insalata di carne cruda e pasta integrale. Ok, e acqua? Acqua sì, non acquavite, acqua, acqua. Siete pronti? Avete preso la rivincita con Edi, che ve l'aveva agguffata. Ma non so, poi Edi è bravo, eh, però chissà, magari si è gasato troppo, non lo so. E noi oggi siamo tranquilli, parla che giochiamo con una bellissima squadra di amici, cioè contro una bellissima squadra di amici. Noi siamo gasati come sempre, quindi viene fuori, facciammi conti alla fine, vediamo cosa è venuto fuori. Dai, mi raccomando, un paio di bicche per Radio Bica, così abbiamo un po' di riprese. Eh sì, vabbè, 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 non c'è bisogno di chiedere. Ok, grazie, buona fortuna. Grazie. Grazie. Vince Morgé per la Serie C, tira, Chate, Jonathan, 167 punti, 4 bicche, tiro tutto a sinistra. Secondo a tirare, Charei, Gabriel, 185 punti, 4 bicche per lui. Bel tiro. Arriva il capitano, Piccioni Claudio, detto Pigeon, 166 punti, 1 bicche. Bel tiro anche per lui. Charei Cristian, 175 punti, 5 bicche. E questa è una delle 5. La riserva, che tira, Morgé, totalizza, 693 punti. Adesso inizia il Saint-Christophe, Cheyong, Jader, 121 punti, in 24 tiri, 5 bicche. Margherita Loris, 186 punti, per lui 5 bicche. Charbonnier Riccardo, 140 punti, anche lui 5 bicche. Bel tiro. Voltolen Lorenzo, 189 punti, 3 bicche, il più alto della squadra. Ultimo subentrato, ultime 6 mani, Ursi Dajan, 49 punti. Yemma Lalou. Oggi abbiamo perso per 8, però sono super soddisfatto del gruppo che abbiamo creato quest'anno. Una bottima squadra. Probabilmente la riproporremo l'anno prossimo. Il Fiolet... C'è un mio amico di Morgé, tra l'altro, abbiamo perso contro il Morgé. Sono sempre amici, ma c'è un altro mio amico di Morgé che ha detto che questo è il gioco del diavolo e ha proprio ragione. Bello che hai detto, riproporremo questa squadra, perché alla fine quello che conta è la squadra, è la squadra, il gruppo, il divertirsi. Il gruppo, trovarsi bene, sono tutti amici e niente. Ci vediamo l'anno prossimo. Quante bicche? 4. 4, vabbè, dai. 189, più o meno. Vabbè. Fa male, dai. Fa male. Con 4 bicche, hai pastigliato. Abbastanza, ha fatto l'11. Non so se l'hanno fatto, forse sì, credo di sì. Finale del 3-gima, gagne il Morgé e all'11, il Mont Olympe, il pilastro di Morgé. Cucu, 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 cucu. Allora, la gagne il Morgé di Edy? Ah no! Adesso è solo dei Gagné. La parodia dell'intervista che avete fatto a Edy. A Edy, devo dire solo una cosa, ti voglio bene lo stesso, anche se sei un po' cagato fuori dal vaso. Però ci stava, perché... No, beh, lui è giusto che fa una... Perché lui è un giocatore forte, eh, non è... Anche se giocava in terza, è un giocatore di un altro livello. Ho detto altro, non alto. Altro. Perché un R può fare la differenza. Un R fa la differenza. Altro livello. Oggi com'è andata? Oggi abbiamo battagliato fino alla fine. E siamo stati, direi che siamo stati bravi, perché poi era già, siamo andaggiati un bel passo avanti domenica scorsa. E oggi abbiamo coronato poi un sogno, perché noi siamo arrivati un paio di volte in finale. E poi sempre visto, come dire... Hanno anche perso conto di noi. Esatto. Andare a Roma e non vedi il Papa, no? Ah, esattamente. Oggi abbiamo visto il Papa. E adesso, e adesso Mordia. E adesso Mordia, stasera magari cena, non so, bo, che programmi. Guardate, guardate che bella la mia squadra. Guardate lì, pezzi di squadra. Jonathan, sempre con la bottiglia in mano. Simone, Cristian. E lui? E lui. Te gioverai a giocare con Nogando, sarei grande. Il futuro. Il futuro, esatto. Come ti chiami? Samuel. Da quanto tempo giochi a Fialet? Da tanto. Da tanto. Da tanto. Quest'anno hai giocato con chi? Con nessuno. Oggi non ho giocato. Ah, perché non siete andati in finale. Eh no. Ma il prossimo anno però sì. Sì. E poi? Giocherai con P. Jones? No. È grande? No, lui è scarso. Giocherò con... Con chi? Con lui. Ah beh, lì sì, lui è più forte. Eh. Quante bicchi hai fatto questo campionato? Quante bicchi hai fatto? Zero. Zero? Eh, oh, mi hanno portato via la palla. Ma, eh già. Mi hanno portato via il sasso. Ah, ah, il sasso, no la palla, il sasso. È la forma di palla. Sì, la palla. La palla, questo è il fiolè. Il fiolè. Il fiolè. Ciao. E no a cutel, radio bica, radio tucca, radio ptà. E no a cutel, radio bica, radio tucca, radio cantiù. Radio, radio a dit pas fait de mou. Adqui. Ciao. 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 Holè.